Medico devoto alla sua professione, al punto da dedicare il suo impegno sociale alla cura delle persone più deboli, lascia un voto nella famiglia che tanto amava e nella comunità da cui è stato sempre stimato. La cittadinanza di Torre del Greco è ancora a lutto per la perdita del dottor Luigi Pappalardo, sconfitto dal covid-19 in un mese di malattia. Direttore del centro di diabetologia del Bottazzi è stato un professionista stimato a pazienti e conoscenti. Il medico, 62enne, era particolarmente attivo nel sociale come membro del Rotary Club. Abbiamo incontrato Pasquale Del Prete, presidente del Rotary di Torre del Greco Comuni Vesuviani, per ricordare l'allevatura umana e professionale dell'amico scomparso. Luigi è stato sempre una persona moralmente ineccepibile, una persona sempre tesa ad aiutare chi aveva bisogno. Alle prime avvisaglie di questa nuova pandemia del covid-19 è stato quello che ci ha sempre spronati ad essere prudenti, ad avere responsabilità e a limitare quanto più è possibile i contatti in presenza e adottare uno stile di vita quanto più salutare possibile. Tra l'altro, lui, essendo responsabile del centro di diabetologia del Plesso Bottazzi, tutti i giorni era a contatto con le problematiche derivanti dall'aggravamento delle condizioni mediche e delle organizzazioni che in qualche modo doveva far fronte a questa emergenza, quindi continuamente ci teneva realmente in guardia, ci metteva in guardia. E proprio lui ha sempre utilizzato e adottato uno stile di vita ineccepibile. Essendo un salutista, un vegetariano, è stato, diciamo, una guida per noi nei primi momenti, proprio per metterci in guardia da questo nemico subdolo. Il presidente ha raccontato dell'impegno di Pappalardo come membro attivo del Rotary Club. Era rotariano dalla betà degli anni 90 e ha ricoperto nell'ambito del Rotary Club di Torre del Greco quasi tutte le cariche, diventando anche presidente nel 2009-2010. Un ruolo che il medico ha utilizzato per la sua vocazione professionale, cercando sempre di aiutare le fasce della popolazione più a rischio. Luigi è stato sempre tra i promotori, essendo lui in prima linea sul campo, nelle domeniche che abbiamo organizzato per la sanità. Quindi lui ha offerto, insieme a tanti altri colleghi medici, la sua opera, sempre chiaramente a titolo gratuito, per fornire un'assistenza specialistica alle persone e alle classi sociali in particolare meno avvantaggiate. Quest'anno, nelle prime avvisaglie delle difficoltà emergenti a causa del Covid-19, si è fatto promotore proprio per raccogliere dei fondi da destinare a pacchi alimentari e pacchi medici presso delle farmacie di Torre del Greco. Per noi ha sempre rappresentato l'anima più buona, più vicina al prossimo. Dopo questo lutto è riuscito a sentire anche la famiglia del dottore? Con la famiglia ci siamo visti chiaramente per i funerali che si sono svolti in forma molto ridotta. Si è percepita tutta la vicinanza sia dei Rotariani ma dell'intera comunità ed è emersa, e non poteva essere diversamente la tragedia che si è venuta a creare in una famiglia molto unita. Come pensate di commemorarlo in futuro? Si penserà a un premio o una borsa di studio da dedicare alla figura di Luigi per quello che ha fatto come italiano, per quello che ha fatto come medico, quello che era come uomo. Sono tanti i medici e gli operatori sanitari che hanno perso la vita in questa pandemia. Un ricordo per tutti questi professionisti. I medici di base sono quelli che sono in prima linea perché è il primo contatto che il paziente, il malato ha sul territorio e quindi veramente svolgono un lavoro eccezionale con assenza di mezzi. Questo credo che sia emerso in tante altre occasioni. A loro va un ringraziamento particolare, ai medici di base, agli specialisti, agli ospedalieri, agli infermieri, tutto il corpo sanitario fanno un lavoro veramente eccezionale. Il senso di responsabilità deve avere la prevalenza su tutti gli altri sentimenti e su tutte le altre convinzioni. La responsabilità di tutti per la salute nostra e per la salute di tutti.